Il primo aspetto che dobbiamo capire è come passiamo da un approccio orientato alla programmazione procedurale a un approccio orientato agli oggetti, ovvero a capire quali sono le motivazioni, le caratteristiche fondamentali del paradigma orientato agli oggetti. Ci sono diversi paradigmi di programmazione. Il primo, quello forse più diffuso e conosciuto, è quello procedurale di tanti linguaggi, quali ad esempio C o Pascal. L'approccio orientato agli oggetti, che è comune a molti linguaggi moderni, quindi C++, Java, C Sharp, in parte anche Python o JavaScript. L'approccio funzionale, che è comune a linguaggi quali l'ISP, Pascal, ma anche Sequelle, che qualcuno studia in parallelo nel corso di base di dati. E paradigma della programmazione logica, in cui si mettono delle asserzioni e si cerca di dimostrare qualche conseguenza. Storicamente i primi linguaggi di programmazione, quelli ad alto livello, almeno, quindi parliamo di Fortran, COBOL degli anni 60, erano linguaggi procedurali e avevano sostanzialmente, proprio perché erano di alto livello, la capacità di definire variabili e definire dati strutturati, quindi strutture dati. Successivamente, verso la fine degli anni 60, prima degli anni 70, sono emersi la seconda generazione di linguaggi procedurali di alto livello, il C è l'esempio principale, ma c'è stato anche il Pascal, l'Algol 68, che hanno introdotto quella che è la programmazione strutturata, ovvero i costrutti di IF, di ciclo, definiti in maniera a blocchi. E hanno anche definito quelli che sono i tipi dei dati in maniera molto più strutturata, con conversioni e controlli sulla compatibilità dei tipi tra le variabili quando vengono trattate assieme. Successivamente, fin gli anni 70 e primi anni 80, ci sono stati alcuni linguaggi di alto livello procedurali, ADA e Modulo 2 sono quelli più noti, in cui sono stati definiti i concetti di moduli, di programmazione concorrente e l'idea delle eccezioni. In parallelo a questo flusso principale relativo ai linguaggi procedurali, c'è stato anche una serie di altri linguaggi orientati agli oggetti. Il primo è il Simula 67, che come suggerisce il nome, è stato sviluppato nel 1967 ed è stato il primo linguaggio di programmazione che effettivamente avesse i principali costrutti che oggi assegniamo ai linguaggi di programmazione agli oggetti. Successivamente c'è stato un linguaggio di grosso successo che si chiamava Smalltalk, che è stato sviluppato all'inizio degli anni 70 ed è stato molto utilizzato. Smalltalk aveva alcune limitazioni, soprattutto in termini di efficienza, ma ha dato la possibilità di diffondere questa idea, questo approccio alla programmazione orientata agli oggetti. Infine negli anni 80 sono emersi innanzitutto il C++ e anche un altro paio di linguaggi, quindi Eiffel e ADA 96-97, eccetera, quindi una serie di evoluzioni del linguaggio ADA, che inizialmente era un linguaggio procedurale, e negli anni 90 è emersa una seconda generazione di linguaggi orientati agli oggetti, cui Java è quello principale, ma abbiamo anche altri linguaggi come ad esempio Python e poi successivamente, verso fine degli anni 90, C Sharp, che è un altro linguaggio di programmazione ad oggetti abbastanza diffuso. Che cosa vuol dire sviluppare in maniera procedurale, piuttosto che sviluppare in maniera orientata agli oggetti? Cerchiamo di capirlo con un esempio molto semplice. Immaginiamo la ricevuta di un registratore di cassa. Abbiamo degli input che sono i codici dei prodotti, so, 13 57 123, a un certo punto terminiamo l'elenco dei prodotti da inserire nel nostro scontrino e il nostro registratore di cassa stampa una ricevuta, in cui sono elencati i prodotti, i loro prezzi, il numero di prodotti e il totale. Ecco, come realizzereste questo programma in C? Provate a fermarvi e a ragionare in termini di quali strutture dati, quali funzioni sono necessarie per realizzare un programma che fa queste cose, leggendo ad esempio quei codici di prodotto direttamente la tastiera, in linguaggio C. Io provo a fermarmi un attimo e a darvi la possibilità di ragionare. Ecco, ora se avete messo in pausa potete riprendere e vedere assieme quella che è una possibile soluzione procedurale in C e poi capire come si confronta con una soluzione orientata invece agli oggetti. allora questa è una possibile soluzione. Noi abbiamo qua su un array di numeri floating point che comprende i nomi accompagnato a un array di stringhe che comprende invece i nomi dei prodotti. Immaginiamo che il codice del prodotto venga considerato uguale all'indice all'interno di questo array per semplicità e poi abbiamo un array di interi che contiene i codici dei prodotti che verranno inseriti nella ricevuta e abbiamo un numero di elementi che sono gli item, i prodotti inseriti all'interno della ricevuta. Che cosa ci serve? Allora ci serve sostanzialmente un metodo, una funzione per poter aggiungere dei codici di prodotto all'interno della ricevuta, un metodo per sostanzialmente stampare la ricevuta alla fine, non dimentichiamoci un metodo per inizializzare il tutto, quindi tutte queste strutture dati devono essere inizializzate con numeri casuali per un test oppure a partire da un file che contiene il listino prodotti e una funzione che ci permette di andare a leggere da tastiera se vogliamo fare un test piuttosto che da un lettore di codice a barre i codici dei prodotti e la funzione main che inizializza e poi fa un ciclo in cui continua a leggere i codici finché non arriva il codice che rappresenta la fine della ricevuta, aggiungendo tutti i codici e una volta che è stato raggiunto l'ultimo prodotto stampa lo scontrino che è sostanzialmente quello che vediamo qua. A questo punto quali sono gli aspetti che limitano questa soluzione? Allora ce ne sono diversi, innanzitutto esiste un qualche legame tra questi due array, i prezzi e i nomi? Sostanzialmente no, siamo noi che li mettiamo in parallelo, siamo noi che mettiamo alla stessa dimensione, ma sostanzialmente non c'è nessuna garanzia. C'è un legame tra il numero di elementi e l'array ricevute? Di nuovo no. Chi è che può operare su questa coppia di informazioni? Sostanzialmente la funzione add, la funzione print, ma anche la funzione init. Quindi queste tre funzioni operano su questa coppia di dati. Prezzi e nomi sì, vengono utilizzati, ma sostanzialmente sono in sola lettura. Per cui la ricevuta, il numero di elementi e le funzioni add, print e init sono fortemente legate tra di loro, ma nel codice noi non vediamo questo legame, non c'è nessun aspetto sintattico del linguaggio che ci permetta di farli stare assieme come un'unica unità. Se andiamo a vedere la funzione main, viene chiamato init all'inizio, ma se immaginiamo di avere un programma molto grande, qual è la garanzia che la funzione init venga chiamata? Se qualcuno ha scritto tutte queste funzioni e questi due dati e qualcun altro li utilizza, come facciamo ad essere sicuri che l'inizializzazione venga fatta correttamente prima di poter utilizzare il resto del codice. Quindi queste sono tutta una serie di dettagli che limitano e sostanzialmente sono causa di possibili errori quando noi andiamo a scrivere un programma utilizzando un approccio procedurale. Se vogliamo andare a strutturare, ad escrivere il nostro programma con un diagramma, noi possiamo pensare di andare a indicare le funzioni così in viola con degli archi che indicano la chiamata da una funzione all'altra e i dati che noi abbiamo a disposizione all'interno del nostro programma, quindi prezzi e nomi, ricevuta e numero di item, che sono quelli a cui accedono le varie funzioni per leggere o scrivere i dati stessi. Qui non abbiamo chiaramente nessun legame che ci metta assieme queste tre funzioni e questi due dati. Un approccio orientato agli oggetti sostanzialmente che cosa fa? Ci permette di andare a aggiungere un oggetto che è una nuova, costrutto a livello di linguaggio, che permette di mettere assieme le funzioni e i dati che sono legati tra di loro. per cui un oggetto è un'entità in cui abbiamo una interfaccia che è data dall'insieme di funzioni che fanno parte di questo oggetto e da dei dati che sono quelli su cui queste funzioni possono operare. L'aspetto fondamentale degli oggetti è che gli oggetti permettono di nascondere i dati, quindi l'information ID è una caratteristica fondamentale degli oggetti che sostanzialmente ci dice che i dati contenuti all'interno di un oggetto possono essere visti e modificati esclusivamente dalle funzioni che stanno dentro l'oggetto, quindi dalle funzioni che rappresentano l'interfaccia. Per cui non è possibile in qualunque altro momento aggiungere una nuova funzione che vada a accedere a questi dati scavalcando quelle tre funzioni principali, add, print e init, che invece sono utili per gestire i dati. Quindi l'information ID e questa definizione di un modulo che è l'oggetto sono due caratteristiche fondamentali. Ovviamente noi possiamo andare a identificare tanti blocchi di dati correlati per cui oltre alla ricevuta e numero di elementi e con quei tre metodi noi possiamo avere anche un altro oggetto che raggruppa il listino prezzi. E possiamo anche andare oltre, possiamo andare a identificare degli elementi semanticamente consistenti all'interno del nostro programma che corrispondano a concetti del nostro problema di partenza. Quindi quando noi andiamo a discutere con un commerciante di ricevute e di scontrini, ovviamente parleremo di prodotti, listino prodotti, di ricevute, di righe o elementi che stanno dentro lo scontrino. Per cui gli elementi dello scontrino che abbiamo qui. I prodotti che in realtà non sono semplicemente in un unico array ma sono costituiti da due dati, il prezzo e il nome del prodotto. Quindi l'idea di avere un oggetto che rappresenta questa coppia di dati e li mantenga assieme di nuovo ci permette di scavalcare uno dei limiti dell'approccio procedurale. Quando è l'idea? L'idea è che con un approccio orientato agli oggetti noi possiamo andare a definire degli oggetti che rappresentano delle entità, dei concetti noti e ben definiti, quindi hanno un ruolo ben definito all'interno di quello che è il dominio del problema. Oltre agli oggetti, nell'approccio che stiamo descrivendo, abbiamo anche delle classi. Che cosa sono le classi? L'idea è che noi possiamo avere tanti oggetti analoghi che rappresentano la stessa idea. Immaginate il prodotto, ecco noi non abbiamo un unico oggetto prodotto, ne abbiamo tanti. tramite la classe noi andiamo a definire le caratteristiche comuni di tutti gli oggetti di tipo prodotto e quindi la classe rappresenta un concetto di alto livello. Qual è il passaggio che lega una classe a un oggetto? Sostanzialmente una classe può essere istanziata andando a creare un oggetto e tutti gli oggetti istanziati a partire dalla stessa classe hanno le stesse caratteristiche. Quindi se immaginiamo la classe prodotto, la caratteristica comune di tutti i prodotti è di avere un nome e un prezzo. Le classi inoltre possono essere legate tra di loro. Quindi è possibile che una classe sia legata a un'altra per cui un elemento, una riga dello scontrino è legata a uno specifico prodotto. Un elemento, una riga sta dentro uno scontrino, un prodotto sta dentro il listino prodotti, il listino prezzi. Infine nell'approccio orientato agli oggetti le classi possono sostanzialmente ereditare l'una dall'altra. Quindi l'idea è che se io ho una classe di partenza ne posso trovare una che è un po' più specifica, ne posso identificare una che è più specifica che eredita la classe di partenza senza dover ridefinire tutto e quindi senza dover fare un copia e incolla. Queste sono le caratteristiche fondamentali delle classi e nel nostro esempio specifico quello che possiamo fare è andare a identificare ad esempio, in base a quello che abbiamo visto prima e gli oggetti che abbiamo identificato nel nostro esempio, quattro classi diverse. Abbiamo la classe ricevuta, la classe listino prezzi dove la classe ricevuta è legata o è collegata al listino prezzi. Quindi cambiando listino prezzi avremo dei valori diversi all'interno della nostra ricevuta. Inoltre la ricevuta contiene diversi item o righe del nostro scontrino. Ogni elemento dello scontrino si riferisce a un prodotto e i prodotti sono contenuti all'interno del listino prezzi, la descrizione dei prodotti. Quindi vedete che noi siamo passati da una struttura molto di alto livello, molto specifica, dettagliata, con degli aspetti di basso livello, ad esempio quel max list e max receipt che possono essere definiti ma sono difficili da capire immediatamente, a una situazione molto più di alto livello che è questa in cui abbiamo le classi e sappiamo che a parte da queste classi nel nostro programma saranno presenti degli oggetti. Avremo ragionevolmente un oggetto ricevuta, uno più oggetti ricevuta, un oggetto listino prezzi e avremo tanti oggetti elemento e tanti oggetti prodotto. Quindi l'idea è che l'approccio orientato degli oggetti definisce un nuovo tipo di componente, l'oggetto e ovviamente le classi che sono la loro descrizione e questi oggetti, questi nuovi componenti sostanzialmente mettono assieme dati e le funzioni che possono accedere a questi dati e definiscono un'interfaccia in modo tale che sia chiaro e univoco quali funzioni possono accedere a quei dati senza che esca fuori quello che è un approccio spaghetti in cui qualunque funzione può accedere a qualunque dato e quindi in caso di malfunzionamento è difficile andare a capire cosa ha modificato quel dato nella maniera sbagliata. È possibile andare anche a identificare delle relazioni tra le classi che permettono agli oggetti di scambiarsi dei messaggi, quindi un oggetto chiede a un altro oggetto di svolgere una particolare operazione. Perché andiamo a utilizzare l'approccio orientato agli oggetti? Perché sostanzialmente oggi, nei giorni nostri, ma questo era vero anche passato, recente, i programmi stanno diventando sempre più grandi e quindi sono difficili da essere gestiti o anche compresi in una singola persona, per cui c'è la necessità di gestire progetti molto grandi e l'approccio orientato agli oggetti permette di andare a definire l'interfaccia di un oggetto senza entrare nei dettagli, quindi una persona può essere responsabile di andare a definire una classe specifica e un'altra la può utilizzare senza dover per forza conoscere i dettagli. Quindi è più facile utilizzare il codice e riutilizzarlo soprattutto e l'approccio orientato agli oggetti permette di semplificare quella che è la manutenzione del codice e la sua evoluzione. Ricordate che, lo dico una volta, ma ve lo ricorderò più volte durante queste lezioni, la gran parte delle spese per software non sono dovute al primo sviluppo del codice, ma bensì alla sua manutenzione. Quindi avere un approccio che mi permette di ridurre la manutenzione sicuramente ci dà un grosso vantaggio. L'idea semplice è che io uso un approccio ingegneristico in cui quando ho un problema molto grande identifico dei componenti, definisco come questi componenti possono interagire e poi le interfacce tra di loro, cercando di minimizzare le intersezioni o le relazioni tra i componenti, in modo che ogni componente possa essere sviluppato e manutenuto in maniera indipendente. sostanzialmente, se noi andiamo a confrontare un approccio procedurale contro un approccio orientato agli oggetti, nell'approccio procedurale abbiamo funzioni che chiamano altre funzioni e dei dati che sono manipolati da varie funzioni o sottoprogrammi. In un approccio orientato agli oggetti noi abbiamo diversi oggetti che vengono richiamati dal programma principale e che contengono i dati, operano sui propri dati ed eventualmente scambiano messaggi con altri oggetti. Quindi è un'organizzazione molto più strutturata e molto più facile da comprendere. Abbiamo detto che è fondamentale capire come gli oggetti e le classi interagiscono tra di loro e questo viene definito tramite un'interfaccia, quindi quando vado a definire una classe definisco l'interfaccia che è tutto l'insieme di funzioni che potranno andare a operare sugli oggetti e quindi ogni oggetto è responsabile dei propri dati e quei propri dati possono essere utilizzati esclusivamente dalle funzioni dell'oggetto stesso. Quindi l'idea è che gli oggetti incapsulano uno stato insieme di dati e dispongono un'interfaccia standard. Ovviamente questo incapsulamento e l'ascondere all'informazione, l'information ID in cui dicevamo prima, sono due aspetti fondamentali che caratterizzano come gli oggetti funzionano. Per cui abbiamo una serie di funzioni che nel contesto orientato agli oggetti si chiamano metodi, che definiscono l'interfaccia e che danno modo a tutto il resto del programma, quindi gli altri oggetti, di accedere all'oggetto. Nessuno può accedere direttamente ai dati interni dell'oggetto se non i metodi dell'oggetto stesso, che sono quelli di interfaccia oppure ovviamente possono anche definire altri metodi interni per andare a svolgere compiti più specifici. Quindi l'idea è che l'incapsulamento permette di semplificare l'accesso e permette di usare un oggetto senza conoscere gli aspetti interni, ma conoscendone semplicemente l'interfaccia, cioè l'insieme di metodi, le funzioni che io posso chiamare. E soprattutto se guardiamo l'incapsulamento dall'altro punto di vista, quindi dall'interno piuttosto che dall'esterno, nel momento in cui io devo andare a costruire un oggetto, quindi definire la classe che descrive l'oggetto, io una volta che ho definita l'interfaccia non mi devo preoccupare di nulla, mi posso concentrare sulla parte interna, la posso modificare, cambiare e questo non andrà a interferire in alcun modo con quelli che sono invece i vari utilizzatori. Questo mi porta anche ad altri vantaggi che sono sostanzialmente la facilità di evoluzione, per cui io posso modificare tranquillamente in qualunque istante un oggetto, i suoi aspetti interni, purché io mantenga inalterata quella che è l'interfaccia. E soprattutto, avendo definito la classe una volta sola, i dati, che quindi sono interni all'oggetto, sono utilizzati soltanto dalle funzioni dell'oggetto definiti nella classe stessa. E quindi se io devo andare a fare una modifica, la faccio esclusivamente in una classe e non ho la necessità di andare a cercare all'interno di un programma, magari di grandi dimensioni, tutte le funzioni che potrebbero accedere in qualche modo a un dato. Sono tutte raccolte lì, sono dentro la classe e quindi faranno parte poi dell'oggetto istanziato a partire dalla classe. Storicamente ci sono state varie evoluzioni della costruzione dei linguaggi ad oggetti. I primi erano semplicemente object-based, in cui io costruisco un oggetto come un insieme di funzioni e dati correlati. Non era ancora presente il concetto di classe. Classe come definizione unica di tutti gli oggetti che condividono sostanzialmente la stessa struttura. Il passo successivo è stato appunto quello di andare a definire delle classi e quindi definire quelle che sono tutte le caratteristiche comuni, quindi disaccoppiando quello che è un concetto di alto livello definito in fase di progettazione da quello che è un concetto più di basso livello e che ha la sua ragione di esistenza durante l'esecuzione del programma. Un passo successivo è quello di andare verso quelli che sono i linguaggi propriamente detti orientati agli oggetti in cui gli oggetti, oltre ad appartenere una classe, hanno una caratteristica in più. Le classi possono ereditare l'una dall'altra, andando a definire tutta una serie di proprietà aggiuntive che possono essere decisamente utili. Un sotto insieme dei linguaggi orientati agli oggetti è quello che si chiama linguaggi agli oggetti fortemente tipizzati, dove i tipi dei dati, delle variabili, sono definiti in maniera molto precisa e il compilatore è in grado di fare tutta una serie di controlli sulla coerenza delle operazioni che faccio su questi dati. Voi avete presente C, in cui ogni variabile ha un tipo ben definito, quindi il C è un linguaggio strongly typed. Non è orientato agli oggetti, ma è strongly typed. Ci sono altri linguaggi, ad esempio Python, che non sono strongly typed, in cui io vado a definire una variabile, ma non il suo tipo. Per cui la variabile può sostanzialmente assumere valori di qualunque tipo ed eventualmente i valori all'interno di quella variabile possono essere prima di un tipo e poi dell'altro. Questo sostanzialmente impedisce a un compilatore di fare dei controlli di coerenza e per cui fa emergere eventuali inconsistenze non in fase di compilazione ma bensì in fase di esecuzione. Per cui in generale linguaggi fortemente tipizzati ci danno un vantaggio in più che è quello di poter intercettare prima, già in fase di compilazione, potenziali errori che abbiamo commesso nella programmazione. A questo punto quello che noi dobbiamo andare a fare è cercare di capire come possiamo andare a costruire la nostra struttura di un programma. Quindi l'idea è io ho un problema, devo andare a identificare quelle che sono le classi, che poi si tradurranno in codice Java o di qualunque altro linguaggio ad oggetti che permettono di risolvere il problema. Per fare questo noi andremo a utilizzare un approccio e una notazione grafica che si chiama UML. UML sta per Unified Modeling Language ed è il linguaggio standardizzato con cui viene progettato qualunque programma sviluppato con l'approccio orientato agli oggetti. Si tratta di una notazione grafica che permette di andare a definire quelli che sono i componenti di un programma orientato agli oggetti. Storicamente è nato dalla fusione di due diverse tecniche di modellazione, una quella sviluppata da Grady Butch, l'altra OMT e una terza che poi è confluita anch'essa che è OSE. I tre consulenti che sostanzialmente hanno sviluppato queste tre tecniche si sono messi assieme e hanno costruito quello che è la notazione UML. UML comprende diverse tipologie di diagrammi, i diagrammi delle classi, di attività, i diagrammi dei casi d'uso, di sequenza, gli state chart. Noi ci focalizzeremo sostanzialmente su uno di questi che è il diagramma delle classi, che è il primo, è quello più importante, più diffuso e sostanzialmente il più noto tra i diagrammi UML. Qual è l'obiettivo del diagramma delle classi? Sostanzialmente il diagramma delle classi ha l'obiettivo di andare a catturare quelli che sono i principali concetti, spesso non dettagliati e concreti, ma normalmente a livello astratto. Quali sono le caratteristiche che definiscono questi concetti, sostanzialmente i dati associati a questi concetti, e se esistono delle relazioni tra questi concetti che possono essere utili per andare a risolvere il problema che ci poniamo. Inoltre, dentro un diagramma delle classi, noi possiamo andare a indicare quello che è il comportamento delle classi. Se ricordate quanto dicevamo sul paradigma orientato agli oggetti, stiamo parlando dell'interfaccia, le funzioni che stanno all'interno delle classi e che sono deputate ad accedere ai dati. Qual è il primo passaggio che dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto andare a capire quali sono i diversi livelli di astrazione che sono coinvolti in un approccio di soluzione dei problemi orientato agli oggetti. Abbiamo sostanzialmente due livelli di astrazione, quello che possiamo chiamare astratto e un altro che è concreto. A livello astratto noi parliamo spesso di concetti, di entità, classi, categorie, tipi. A livello concreto noi parliamo di stanze, elementi, oggetti, esempi, occorrenze. Ecco, l'approccio orientato agli oggetti si muove tra questi due livelli andando a utilizzare i due termini specifici che sono classe e oggetto, un aspetto astratto che è quello che noi definiamo in fase di progettazione e un aspetto concreto che è quello che noi possiamo osservare in fase di esecuzione. A livello astratto, in fase di design, noi andiamo a definire le classi. A livello concreto, in fase di esecuzione, noi possiamo osservare all'interno di un programma degli oggetti che interagiscono tra di loro, contengono dei dati ed operano sui propri dati. Iniziamo a capire quindi che cos'è il livello astratto e come lo rappresentiamo normalmente tramite delle classi. Una classe rappresenta normalmente un insieme di oggetti che hanno caratteristiche comuni ma che sono sostanzialmente indipendenti tra di loro, fatti, oggetti, persone. Normalmente si dice che l'istanza di una classe è un oggetto che ha come tipo quella classe. da cui se pensiamo a un'applicazione per gestire un'organizzazione commerciale possiamo avere classi come ad esempio città, dipartimento, impiegato, acquisto, vendita. Come rappresentiamo queste classi? In maniera grafica. L'OML ci dice che rappresentiamo le classi tramite dei rettangoli. I rettangoli hanno normalmente da uno a tre comparti, il nome della classe sta sempre nel comparto più in alto. Per cui nel caso specifico abbiamo una classe impiegato, una classe vendita, una classe dipartimento, una classe città. Abbiamo detto che in corrispondenza alle classi abbiamo degli oggetti. Gli oggetti di solito rappresentano delle entità fisiche, quindi uno studente, uno di voi, un docente, un esame, quindi non necessariamente un'entità concreta, una finestra, sia una finestra fisica che una finestra all'interno di un'applicazione. Di solito gli oggetti sono caratterizzati da un'identità, quindi ogni oggetto è diverso da un altro, da una serie di attributi o dati, sostanzialmente le informazioni che stanno dentro l'oggetto, da delle operazioni che sostanzialmente definiscono quello che è il comportamento potenziale di un oggetto e sostanzialmente dalla sua interfaccia. Normalmente le operazioni e l'interfaccia non sempre coincidono perché è possibile che esistano delle operazioni interne non accessibili dall'esterno. In UML gli oggetti vengono anch'essi definiti tramite dei rettangoli, a differenza delle classi però hanno un unico comparto e soprattutto sono caratterizzate da un nome, quindi il nome che dà l'identità dell'oggetto e la classe a cui appartengono. Per cui qui abbiamo un oggetto Tawin di classe Dipartimento, un oggetto che si chiama John di classe Employee. Quindi riepilogando classi e oggetti, la classe è la descrizione, un tipo sostanzialmente, che definisce la struttura degli oggetti in termini di dati, che vengono spesso chiamati attributi o campi, funzioni, che vengono chiamati metodi oppure operazioni e funzioni di creazione, che vengono chiamati costruttori. E abbiamo poi gli oggetti che sono istanze delle classi. Quindi mentre la classe definisce la struttura, l'oggetto effettivamente contiene i dati, dei valori specifici per gli attributi. Può eseguire dei metodi, può essere creato. Quindi un oggetto si dice che ha un'identità propria e ha uno stato che può variare tramite l'esecuzione dei metodi. Quindi una classe è la definizione di un tipo, l'atto di creazione si chiama istanziazione, quindi gli oggetti spesso vengono chiamati anche istanze di una classe, e in generale data una classe non c'è alcun limite al numero di oggetti che io posso creare a partire da esse. E tutti gli oggetti creati sono tra di loro indipendenti. Quindi immaginando una notazione comune che conosciamo tutti, quella dei diagrammi di Venn, possiamo dire che le classi corrispondono un po' al concetto di insieme, mentre invece gli oggetti corrispondono al concetto di elemento di un insieme. Ovviamente una volta definita la classe dobbiamo andare a descrivere qual è la sua struttura, e quindi come verranno strutturati gli oggetti istanze di quella classe. L'elemento fondamentale che noi mettiamo dentro una classe sono i dati che vengono descritti in termini di attributi. Gli attributi, esattamente come le variabili in qualunque linguaggio di programmazione, e infatti quasi tutti i linguaggi di programmazione e gli attributi seguono una notazione che è molto simile a quella della dichiarazione delle variabili, hanno un nome e un tipo. Normalmente la classe definisce il nome e il tipo e poi ogni oggetto avrà un valore associato a ciascuno degli attributi definiti nella classe di cui è istanza. Dove vengono definiti gli attributi? Beh, all'interno del rettangolo che rappresenta una classe. Gli attributi di solito vengono descritti nel comparto intermedio, quindi abbiamo il nome della classe, ad esempio in questo caso corso, due attributi, codice e anno, che hanno rispettivamente come tipo stringa e integer. Una classe città che ha due attributi, nome di tipo stringa e abitanti di tipo intero. Una classe impiegato che ha come attributo salary di tipo currency. Ovviamente, oltre agli attributi, noi abbiamo la necessità di andare a definire quelle che sono le operazioni che io posso svolgere sui dati. E queste sono definite in termini di metodi. I metodi descrivono come io posso operare sui dati interni. Sono analoghi alle funzioni dei linguaggi di programmazione procedurali e quindi avranno un nome, dei parametri e un eventuale tipo di ritorno. E sono il modo in cui io riesco ad agire sui dati interni agli oggetti. Come vengono descritti? Sostanzialmente vengono descritti nel terzo comparto con il nome e il tipo di ritorno. Vi faccio notare quindi che complessivamente una classe ha normalmente tre comparti. Il primo che indica il nome, il secondo che indica gli attributi e il terzo che indica i metodi. Piccola osservazione relativa alla notazione. Vedete che qua il nome è seguito da un due punti e poi dal tipo. Questa è una notazione che non è comune, almeno se pensiamo al C, normalmente sono scambiati, quindi abbiamo prima il tipo e poi il nome. Questa è una notazione che deriva dal linguaggio che si chiama Pascale e poi anche da Ada. Era molto comoda, facile da descrivere, quindi è stata mantenuta anche all'interno di UML. Come possono interagire tra di loro gli oggetti? Beh, l'idea è che gli oggetti si scambiano dei messaggi. Un messaggio sostanzialmente è una richiesta che fa un oggetto all'altro di eseguire uno dei suoi metodi. Normalmente, lo vedremo poi più avanti, non c'è una corrispondenza univoca, diretta, tra quello che è un messaggio e quello che è l'effettivo codice che verrà eseguito, perché ci possono essere dei meccanismi di differenziazione, ma ci arriveremo. Molto spesso è utile andare a descrivere come avvengono questi messaggi scambiati, queste chiamate di metodi, tra oggetti, e per cui vengono utilizzati dei diagrammi di interazione come questo, in cui abbiamo rappresentati diversi oggetti, quindi, ad esempio, il dipartimento Dao, un'impiegata employee, un'altra impiegata Jane, e c'è un messaggio che si chiama print name. Quindi print name probabilmente andrà a eseguire il metodo che si chiama così, quindi print name, all'interno dell'oggetto John, che è di tipo impiegato. Finora abbiamo visto classi a sé stanti. Ovviamente in un programma, in una condizione complessa, esistono più classi che sono collegate tra di loro, per cui è necessario andare a indicare come queste classi sono legate. Normalmente il legame che esiste tra le classi esiste anche tra i concetti che rappresentano nel domingo del problema che noi vogliamo andare a risolvere. In UML i legami tra le classi sono rappresentati tramite delle associazioni, che quindi indicano un legame tra due classi. Normalmente abbiamo una coppia di oggetti che corrispondono alle classi che saranno legati tramite questa associazione. Attenzione che quando noi andiamo a identificare un'associazione, l'associazione la definiamo in base alle classi. Quindi, se torniamo alla nostra analogia dei diagrammi di Venn, abbiamo due insiemi che corrispondono alla classe studente e alla classe corso e abbiamo una serie di legami tra questi. Quindi avremo ragionevolmente una classe, uno studente che segue un particolare corso, due che seguono questo corso, uno che segue quest'altro, uno studente che segue due corsi diversi. Ecco, questi sono dei legami tra gli oggetti. Normalmente io non vado a descriverle tutti, ma li vado a descrivere in termini di una associazione tra le classi. Attenzione, l'associazione tra le classi di solito mi dà la possibilità di andare a legare due oggetti alle classi corrispondenti. Non è un obbligo. Qui, in questo caso, qui abbiamo un oggetto di tipo studente che non è legato ad alcun corso. Di qua abbiamo un corso che non è legato a nessuno studente. Quindi, sostanzialmente, la classe, l'associazione tra le classi di solito mi indica un possibile legame tra gli oggetti. Come rappresentiamo le associazioni in UML? In UML le rappresentiamo andando a legare due classi con un segmento o comunque con una spezzata e andando a indicare vicino a questo segmento il nome. In UML poi è possibile andare a indicare anche questo dettaglio, questo piccolo triangolino, che indica l'ordine con cui andare a leggere l'associazione. Per cui, in questo caso, lo studente segue il corso. L'impiegato lavora in una città. Oppure possiamo avere residenza, che è un concetto un po' più vago, che non ha necessità di avere un ordine di lettura. Ovviamente noi usiamo le associazioni per andare a rappresentare dei legami che spesso ne esistono nel dominio del problema. Per cui il fatto che uno studente segue un corso è un qualcosa che noi diciamo tranquillamente nel linguaggio naturale e che poi vogliamo tradurre, tramite questa associazione e poi col passaggio successivo nella definizione del codice, con un qualcosa di corrispondente nel nostro programma. Le associazioni possono anche essere ricorsive, quindi è possibile che una classe sia legata a se stessa. Attenzione, ricordatevi che un'associazione indica un potenziale collegamento tra oggetti delle classi collegate. Quindi questa associazione ricorsiva amico su studente non vuol dire che uno studente è amico di se stesso. Vuol dire che all'interno dell'insieme degli studenti avremo due elementi che possono essere legati da questa associazione di amicizie. Spesso capita che alcune associazioni possano essere assolutamente riflessive, quindi l'amicizia, ad esempio, potrebbe essere una di queste. Se A è amico di B, B sarà amico di A. È un'assunzione un po' semplificativa, ma giusto per darvi l'idea. Non sempre però è così. In alcuni casi le associazioni, anche ricorsive, non sono simmetriche. Per cui, se andiamo a prendere la classe degli impiegati, tra gli impiegati ci possono essere dei manager e degli impiegati sottoposti, in cui abbiamo che un manager è il supervisore di un altro impiegato. In questo caso la supervisione non è un'associazione simmetrica, ha due ruoli ben distinti. Per identificare questi ruoli in UML si aggiungono queste annotazioni ai due estremi dell'associazione, che vengono chiamati per l'appunto ruoli, per cui la supervisione, l'associazione sopravvede, ha due ruoli, manager ed employee. Un altro aspetto importante che non dobbiamo dimenticare è che l'associazione di persemi ha la potenzialità che esista un legame tra gli oggetti di quelle classi. Spesso però è necessario andare a dare qualche dettaglio in più. Cioè, quanti supervisori può avere un impiegato? Quanti amici può avere uno studente, una persona? Per fare questo in UML è prevista la possibilità di andare a definire quella che si chiama la molteplicità delle associazioni per andare a dire quanti oggetti di una certa classe possono essere legati a quanti altri oggetti di un'altra classe. Le molteplicità vengono indicate in UML tramite questi numerini che vengono messi ai due estremi dell'associazione. Qual è il significato di questi numerini? Questi numerini sostanzialmente indicano il minimo e il massimo. Per cui, se andiamo a vedere quello 0 e quel 4, vuol dire che, sostanzialmente, mettendoci dal punto di vista dell'auto, l'auto può vedere un minimo di 0 e un massimo di 4 ruote montate. Quindi, i numerini che stanno vicino alla ruota mi dicono quante ruote può vedere un'auto. Quindi, complessivamente, questo mi dice che un'auto può montare nessuna, ma fino a 4 ruote. Ovviamente, possiamo anche ribaltare il tutto e quindi di là abbiamo uno 0 e 1 che mi indica che un'auto può essere montata su al più un'auto. Quindi, la ruota può essere montata su un'auto oppure potrebbe essere, in questo momento specifico, montata su nessun'auto. Potrebbe essere, ad esempio, la ruota di scorta. Normalmente, quando andiamo a definire le molteplicità, non usiamo dei numeri specifici come, ad esempio, questo 4 qui, ma andiamo a indicare dei numeri che sono solitamente o 0 o 1 oppure il simbolo asterisco che significa molti. Perché? Perché, come facilmente immaginate, molto spesso a me interessa sapere se il minimo è 0 oppure no, quindi se ho l'obbligo, e il massimo mi interessa sapere se è 1 oppure se è più di 1. Perché? Perché se è 1 a me basta una semplice variabile. Se è più di 1, devo utilizzare una struttura a dati diversa, un array o qualcosa di più complicato. Per cui, normalmente, quando parliamo di molteplicità minima mettiamo o 0 o 1. 0 significa che la partecipazione è opzionale, mentre invece 1 significa che la partecipazione è obbligatoria. Quindi, se ho dall'altra parte 1 o 0, vuol dire che potrei anche non essere collegato a nulla. Se ho 1, devo essere per forza collegato ad almeno un oggetto. Per quanto riguarda la molteplicità massima, di solito si usano 1 oppure molti. 1 vuol dire che al più io vedo un oggetto dall'altra parte, se mi metto nei panni di un altro oggetto, l'asterisco molti mi dice che io posso vederne anche più di 1, tanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, se andiamo a vedere questi esempi, un ordine può essere legato a 0 o 1 fattura. Ho appena emesso l'ordine, non è ancora stato evaso, quindi io non ho nessuna fattura. Una volta che l'ordine è stato evaso avrò una fattura, ma ragionevolmente dato un ordine avrò una sola fattura. Viceversa, una fattura è legata a un ordine. Qui non ho il minimo e il massimo, ho messo semplicemente 1, intendendo dire che quello è sia il minimo che il massimo. Quindi io non posso avere una fattura senza un ordine. Persona e città. Una persona deve avere una residenza per forza in una città. Una città può avere come residenti 0 oppure molti, molte persone. 0 se la città è stata chiusa e evacuata, molti, che è il caso normale. Turista e viaggio. Legati dall'associazione prenotazione, un turista può aver prenotato 0 o più vergi. Un viaggio, normalmente, deve avere almeno un turista prenotato oppure anche più di uno. Esiste un particolare tipo di associazione che si chiama aggregazione e che viene indicata tramite questo piccolo segno, diamond in inglese, rombo in italiano. Mi dice che, sostanzialmente, la classe B è una parte di, è un aggregato della classe A. Quindi è un componente essenziale della parte A. Questo è utile per andare a rappresentare dei casi in cui ho un elemento principale e ho altre classi che rappresentano invece dei elementi meno importanti, sussidiari. Per cui, ad esempio, la auto è un aggregato di un motore, quattro ruote e un lettore CD. A questo punto, come facciamo a utilizzare i concetti che abbiamo visto per andare a costruire quella che è una struttura di un programma? Allora, le linee guida che noi dobbiamo seguire sono queste e sono molto semplici. Cerchiamo di analizzare il nostro problema. Il problema avrà una serie di concetti. Quindi, normalmente, i concetti che compaiono nel nostro problema, che hanno una importanza da garantire un'esistenza autonoma, di solito vengono rappresentati tramite delle classi. Quando ho identificato una classe, normalmente cerco di andare a capire quali sono i dati che la caratterizzano. Cerco anche di capire quali sono, eventualmente, i legami tra una classe e le altre classi. E poi cerco di capire quali sono le operazioni che devono poter svolgere gli oggetti di quella classe sui propri dati. Quindi, normalmente, io cerco prima di identificare le classi, i dati, i loro caratteristici, quindi gli attributi, le associazioni tra queste classi e i metodi, ovvero le operazioni che vengono svolte all'interno degli oggetti di queste classi. A questo punto mi fermo e lunedì proveremo a capire come, partendo da una descrizione, ad esempio del caso di studio dello scontrino del registratore di cassa, possiamo andare a identificare le classi e le loro caratteristiche per andare a realizzare un'applicazione che sfrutti l'approccio orientato agli oggetti al fine di risolvere quel problema e che sia sostanzialmente la versione orientata agli oggetti del semplice programma C che abbiamo iniziato a immaginare quando abbiamo visto l'esempio dello scontrino del registratore di cassa.